Il nostro giardino quest'anno appunto si è arricchito di tantissime novità come appunto il porch, ovvero il porticato in stile americano, il nostro pick up truck, il furgoncino e l'arcobaleno realizzato con zucche leggendari che sensibilizza alla diversità. Il giardino delle zucche nasce circa 7 anni fa quando decisi di portare una tradizione americana che noi viviamo da appunto quando siamo piccoli essendo italo-americani e mia mamma era solita portarci nei campi di zucche a raccogliere la zucca per poi decorarla prima del periodo di Halloween. Quindi 7 anni fa abbiamo deciso di far vivere anche a famiglie bambini italiani della nostra zona questa esperienza è iniziato un po' per gioco e non ci aspettavamo tutto questo successo e 7 anni fa però fu deciso non solo di dare la possibilità di raccogliere le zucche ma anche di dare la possibilità di fornire assistenza nell'intaglio e nella pittura dal momento in cui non era una tradizione italiana quindi aiutarli appunto anche nella decorazione.